Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, a Monte San Savino i carabinieri hanno arrestato un uomo trovato in un bosco con un etto di droga. Quando è stato sorpreso dai carabinieri in un bosco ha detto di essere un cercatore di funghi ma in realtà trasportava droga, oltre un etto di hashish. È successo a Monte San Savino. I militari hanno notato un'auto parcheggiata a lungo una strada isolata. Dopo poco è spuntato fuori anche al proprietario appena uscito dal bosco. Ai carabinieri ha detto di essere alla ricerca di funghi ma il suo atteggiamento nervoso ed irrequieto nel corso delle operazioni di identificazione ha insospettito i militari che hanno deciso di effettuare una perquisizione sul posto sia alla persona che all'auto. Sono così saltati fuori 110 grammi di hashish nascosti nelle tasche dei pantaloni. L'uomo, residente nel comune di Monte San Savino, è stato così arrestato in flagranza di reato e la droga è stata sequestrata. Accusato di detenzione di sostanze stupefacenti è stato rimesso in libertà in attesa dell'udienza di convalida. Due furti invece nelle ultime ore ad altrettanti imprenditori ora Fibba e Alza arrivati in città in occasione di Oro Arezzo. I ladri sono riusciti ad introdursi nelle stanze dell'hotel dove soggiornavano. Due colpi, uno da 3.000 e uno da 16.000 euro in preziosi e contanti. Sugli episodi stanno indagando i carabinieri. Un altro buyer straniero invece è stato derubato in via Guido Monaco dove avrebbe lasciato una valigetta contenente argento fuori da una market e all'uscita non l'avrebbe più ritrovata. Il commerciante ha già sporto denuncia alla polizia di Stato che sta facendo accertamenti sull'episodio. E oggi si sono celebrati i funerali di Paolo Berbeglia, il ventenne morto in un incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato scorsi. L'ultimo saluto in cattedrale e all'abbraccio della famiglia si è unito quello della città e quello del comando del genio Ferrovieri di Castelmaggiore a cui Berbeglia era arruolato come volontario. I militari hanno reso omaggio al giovane colleghe portato a spalla il feretro. Sul drammatico incidente è stata aperta anche un'inchiesta dalla procura di Arezzo per omicidio stradale. E attimi di paura si sono vissuti anche in A1 dove una roulotte si è ribaltata. È successo nella tarda mattinata sulla corsia in direzione nord al chilometro 355. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta ma sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e un carroattrezzi. E attimi di tensione anche in Pratomagno dove una donna è caduta durante un'escursione ferendosi al volto. I vigili del fuoco le hanno prestato soccorso mentre stava percorrendo il sentiero CAI 35 in località Coccolo nel comune di Lorociuffenna. Qui la donna infatti aveva avuto un ammancamento ed era finita rovinosamente a terra. Ha riportato un trauma facciale. È stata recuperata con l'elicottero Drago e portata all'ospedale La Gruccia di Montevarchi. A Cortona invece è stata sospesa l'attività di un circolo ricreativo a seguito di controlli dell'Ispettorato del Lavoro e della Guardia di Finanza. Il provvedimento si lega a gravi violazioni in materia di salute e sicurezza ma anche all'occupazione di personale in nero nella misura del 100% dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro, determinando così ammende per oltre 22.000 euro e sanzioni amministrative per altri 19.000. E adesso torniamo a parlare invece dell'episodio che si è verificato lo scorso fine settimana all'interno di una discoteca dove i gnoti hanno spruzzato uno spray al peperoncino provvidenziale stato l'intervento degli addetti alla sicurezza. Hanno spruzzato dello spray al peperoncino all'interno della discoteca facendo vivere così attimi di concitazione nel locale classe 125 nel cuore della città in via Madonna del Prato. È successo nella notte tra sabato e domenica, torno alle 2 nel momento di maggior afflusso provvidenziale l'immediato intervento degli addetti alla sicurezza. Gli operatori nostri si sono accorti subito, vedendo anche un po' il disagio, hanno provveduto a chiudere una stanza che si chiama Privé, un grande salone, aver chiuso le porte, di modo che questa situazione non potesse coinvolgere anche quella parte del locale e hanno provveduto a far defluire rapidamente tutti quanti. Non c'è stato un incidente, non c'è stato un accalcamento, è tutto avvenuto in maniera esemplare e veramente da manuale. Una volta ristabilita la situazione, il deflusso è avvenuto in meno di 10 minuti, quindi è stata una cosa molto rapida e eseguita molto bene. È stata fatta una bonifica interna al locale per sentire la situazione, come era, se era respirabile o meno. Nella bonifica è venuta fuori anche, è stata ritrovata la bomboletta di peperoncino che era stata abbandonata all'interno dei bagni. Quindi una volta ristabilita la situazione abbiamo provveduto a far rientrare tutti coloro che erano venuti per divertirsi e stare in sintonia e in sinergia. Quindi anche quello è stato un rientro, dopo 20 minuti circa di sosta in esterno, fatto in maniera capillare e giusta perché sono entrati senza alcun tipo di problema. Nell'accaduto sono stati avvisati anche i carabinieri. Le telecamere di sorveglianza all'interno della discoteca al momento sono al centro dell'attenzione per fornire eventuali indizi per identificare gli autori del gesto. Negli ultimi giorni nelle campagne a retino un nuovo attacco da parte del lupo in un allevamento di pecore a denunciare l'accaduto e l'accomitato emergenza lupo. È successo a Ponticino e ad avvisare l'allevatore una collaboratore dell'azienda agricola. L'attacco sarebbe avvenuto in pieno giorno e tre i capi predati. E adesso voltiamo pagina per parlare di elezioni europee tra i candidati del territorio a retino nella circoscrizione Italia Centrale anche Francesco Cappelletti. Andiamo a conoscerlo. Il perché di questa candidatura? Partiamo da qui. Allora io credo che le sfide che adesso l'Europa dovrà affrontare mi posso permettere di sbilanciarmi perché io sono il più giovane della mia lista, sono quelle più grandi che abbiamo mai visto nella mia vita. E quindi bisogna mandare a Bruxelles secondo me persone che abbiano sì preparazione, competenza ma anche idee nuove. Io credo che voglio portare questo nella discussione. Francesco Cappelletti, 31 anni, casentinese, è uno dei candidati alle prossime elezioni europee originario del territorio a retino. È in corsa con Lib Dem nella circoscrizione Italia Centrale per la lista Stati Uniti d'Europa. Sì esatto, Stati Uniti d'Europa è una lista che comprende diciamo diversi partiti quindi lo dico da subito, le idee non sono sempre le stesse ma questa è la democrazia. Continuare a pensare a questa Unione Europea che è lontana, che diciamo ci dice l'Europa cosa fare e non è così. Allora l'Italia ha il 10% di rappresentanti dentro il Parlamento e secondo me l'Italia deve contare tanto. Anche perché l'Italia è un paese libero, è un paese importante, è un paese che ha una storia importante e si ha contribuito sin dall'inizio alla costruzione dell'Europa e quindi mandare persone preparate è fondamentale. Quindi sbattere i pugni sui tavoli a Bruxelles serve a poco o a niente. Essere preparati significa sapere andare in una commissione a parlare di semiconduttori e sapere cosa dire, quindi non solo dire no, noi non lo facciamo oppure non solo dire qualche cosa che non c'entra niente. Chiara la sua visione del futuro soprattutto dell'industria in Europa. Uno dei discorsi fondamentali che è poco discusso in questo momento, una discussione politica che talvolta diventa un po' becera diciamo specialmente in Italia è il tema dell'industria, dell'industria e della competitività. c'è una mancanza di investimenti, quindi se non ci sono investimenti non c'è industria, se non c'è industria non c'è competitività e quindi si sta peggio. Quindi questo poi ha effetti sul mercato del lavoro perché si trovano meno lavori, ha effetti nel pubblico perché il pubblico ha meno soldi da spendere, perché se le industrie sono la spina dorsale della nostra economia, esatto. E quindi creare politiche industriali non solo che siano agevoli per tutti, che è già difficile perché abbiamo 27 stati membri, parliamo 24 lingue, tre organi, Commissione, Consiglio e Parlamento, quindi non solo che vadano abbastanza bene per tutti, ma che siano anche strategiche nel lungo periodo, questo è veramente importante. Perché è importante che il voto degli italiani conti anche in questa tornata elettorale? Prima di tutto per non dare ragione a chi dice meno Europa. Secondo me è importante perché si dice sempre che la politica ha molta sfiducia nella politica, i giovani non vanno a votare, allora io invito tutti da 18 anni in su ad andare a votare, farò molti video anche divertenti, utilizzerò i social, quello che posso, iscrivetevi ai miei canali, come dicono gli influencer. Credo che per fare la politica del futuro, per fare l'Europa del futuro, i giovani sono importantissimi, quindi per loro andare a votare. Le persone diciamo un po' più attempate, io parlo di tempo ai miei nonni, continuate a votare per i giovani, quindi non c'è diciamo un'esclusività in questo senso. Tutti devono andare a votare per il futuro di un'Europa che è unita, quindi nel nostro caso verso gli Stati Uniti d'Europa è l'unico futuro che vediamo. Per lui Bruxelles non è certo una meta sconosciuta, è infatti professore presso la Bruxelles School of Governance e tiene corsi su disinformazione, cyber security e comunicazione strategica. Io vivo tra l'Italia e il Belgio, quindi sono spesso a Bruxelles, ho collaborato con il Parlamento, sono ricercatore all'università, quindi voglio fare un appello agli elettori, anche se voi mi votate e io non vincessi, non mi preoccupate che sarò sempre lì al Parlamento a rompere le scatole, prima di tutto ai parlamentari a vedere che lavorino bene e che i soldi dei contribuenti siano spesi bene, quindi sarò molto presente. È un appello rivolto proprio al mondo della politica, quello lanciato da Rondine, cittadella della pace. La prima delle leader che è venuta qui, proprio fisicamente, che è l'Isline, l'hanno portata nella lavatrice di Rondine e gli hanno detto che loro hanno imparato a lavarsi i panni sporchi insieme e così non sono nemici, sono persone che la pensano diversamente e quindi ha lanciato il messaggio concreto, venite a lavarvi i panni qua, rimanendo differenti, ma diventando avversari e mai, mai, mai nemici. È lo slogan che Rondine, cittadella della pace, ha lanciato da alcune settimane rivolto a tutti i leader politici impegnati nella campagna elettorale in vista delle elezioni europee ed amministrative dell'8 e 9 giugno. Un appello ad abbassare i toni del confronto, ma non solo. Abbiamo teso la mano ai leader politici, ma a tutti i candidati, perché da una parte si abbia l'idea fondamentale del avversari sì, nemici mai, questo è il nostro slogan. Cioè si può pensarla in modo totalmente diverso, ma si può confrontarsi senza che nasca l'idea del nemico o senza che si alimenti nell'elettorato con comportamenti e parole. La seconda è un'offerta concreta, perché Rondine è sempre concreta. Venite a fare formare i vostri giovani leader, amministratori, locali, nazionali, qui a Rondine, con i nostri giovani che escono dalla guerra. Sicuramente ne nascerà qualcosa di buono. Il ministro Matteo Salvini ha annunciato la sua visita, forse dopo il voto, ma altri hanno già sposato l'appello di Rondine. Allora, stiamo interloquendo con tanti. La risposta è di grandissimo interesse, rigorosamente bipartisan, perché noi abbiamo voluto riaffermare quello che ormai sanno tutti, che Rondine è la casa di tutti. È la casa dei russi e degli ucraini, dei palestinesi e degli israeliani. Mancherebbe altro che non fosse la casa di tutti i leader politici italiani. Abbiamo risolto risposte interessate di tutti, quasi tutti. Alcuni stanno rispondendo e ci sarà il dibattito pubblico, altri invece, come Alice Line, chiedono di poter venire e stiamo fissando le date. Saranno occasioni bellissime di incontro e le proposte concrete di formazione per ora cominciano ad avere riscontri positivi. Adesso l'economia si è chiusa oggi, l'edizione 2024 di Ora Rezzo ed è stato così il giorno per tracciare un bilancio. Com'è andata questa fiera? Allora, la fiera è andata molto bene, c'è stato un buon afflusso di gente, nonostante la situazione appunto geopolitica che ha frenato un po', comunque abbiamo lavorato molto. Il nostro mercato è quello del Medio Oriente, ovviamente tutto quello che è successo è un po' frenato da una parte, però devo dire che siamo molto soddisfatti dell'andamento generale della fiera. C'è chi ha fatto buoni affari e chi un po' meno. L'edizione numero 43 di Ora Rezzo si è chiusa con un bilancio comunque positivo. Di certo Arezzo rimane punto di riferimento per l'oreficeria Made in Italy. Poco significativa, insomma, non abbiamo visto poi una grande affluenza del pubblico né quelli che si sono presentati poi avevano un grande interesse da acquistare a fare ordine, insomma. È stata una fiera peggiore rispetto a quella degli anni precedenti. Dipende essenzialmente dalle condizioni di mercato, dalle quotazioni dei metalli preziosi che sono eccessivamente alte, che probabilmente creano incertezza nel mercato e poi le conseguenze alla lunga sono queste, insomma. La situazione geopolitica e il prezzo del metallo sono i principali motivi di un mercato ancora con il freno tirato, anche se alcuni operatori hanno raggiunto un risultato insperato alla vigilia della fiera. È un bilancio molto, molto positivo per quello che riguarda la nostra azienda, ovviamente il nostro prodotto contro le aspettative, diciamo, della partenza, visto un po' la situazione generale tra prezzo dell'oro, mercati. 109 i paesi di provenienza dei buyer, fa sapere IEG, i visitatori esteri sono aumentati del 14% in crescita, anche l'Italia con un più 4%. Proprio sui buyer gli operatori però chiedono un maggior coinvolgimento e un prezzo più calmierato per gli stand. Secondo voi i buyer sono selezionati in maniera corretta? Ma, ecco, questo è stato il mio punto di domanda, perché secondo me a questa fiera qui sono mancati i buyer giusti, quelli delle grandi distribuzioni che comunque fai anche i numeri. Quando ci sono catene di negozi piccoli, come mi sono ritrovata in questa fiera qua, i numeri fai un po' più fatica a farli. Sentire questa volontà di collaborare fa bene al settore, però è chiaro che non possiamo coinvolgere mille aziende o anche le 380 che spongono per condividere una lista di buyer, quindi c'è un comitato scelto da IEG e dalle associazioni di categoria che rappresentano però tutte le aziende, quindi diciamo che tutte sono rappresentate attraverso le proprie associazioni di categoria. Chiaramente il costo è importante, è un costo molto alto, costa meno andare a Las Vegas, per esempio, perché ci sono i fondi dell'internazionalizzazione delle Camere di Commercio, quindi è chiaro che con un aiuto da parte dello Stato è più facile andare a esporre ad una fiera. Chiaramente questa è una fiera del nostro territorio, bisognerebbe che IEG venisse incontro alle aziende con anche degli allestimenti più snelli per cercare di far partecipare più aziende possibile, anche quelle magari un po' meno strutturate che hanno la necessità di essere presenti ma non possono sostenere costi alti, quindi questo sicuramente è fondamentale. Lo abbiamo fatto presente, continueremo a portarlo nei tavoli di lavoro con gli EG. Voltiamo pagina, cresce la rete della Zeus, il pronto intervento del servizio sociale. Nel corso del 2024 entrerà nel sistema anche la zona retina. Si estende progressivamente il servizio che permette di fronteggiare 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno le situazioni gravi come in caso di maltrattamenti familiari, violenza di genere e le situazioni di estrema povertà e disagio. Per estendere questo servizio la giunta regionale ha già stanziato 95.000 euro. Riprende in Toscana, come deciso proprio dalla giunta regionale, la campagna di screening gratuito per l'epatite C. Una notizia che arriva dall'assessorato alla salute a seguito dell'approvazione di una delibera di proroga che annuncia anche una grande open day nelle piazze toscane in collaborazione con le associazioni di volontariato per domenica 26 maggio. Anche per il 2024, la popolazione invitata a sottoporsi alla testa sarà quella nata tra il 1969 e il 1989. Ancora sanità, quattro strumenti per l'Ariosol sono stati donati al reparto di pediatria dell'ospedale del Valdarno da due famiglie, la famiglia Rocolini e la famiglia Palazzini Scali. L'apparecchio è un anebolizzatore che ha il compito di trasformare i farmaci liquidi in minuscole particelle, una tecnica che consente di somministrare farmaci vaporizzati in soluzione fisiologica ed ottenere così un'azione mirata locale senza coinvolgere l'organismo. Ad Arezzo invece due mattinate di mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma e di altre patologie cutanee. Le date fissate sono quelle di sabato 18 e sabato 25 maggio quando gli ambulatori medici della farmacia comunale San Giuliano ospiteranno un totale di 24 visite su prenotazione che permetteranno di effettuare una valutazione della pelle finalizzata ad una diagnosi di lesioni sospette o neoplastiche. Al Parco Pertini è stata invece inaugurata la panchina viola per una sensibilizzazione pubblica rivolta alla necessità di una maggior consapevolezza sulla fibromialgia e sulla condizione di invisibilità sociale che vivono gli affetti da questa sindrome. Il taglio del nastro la scorsa settimana alla quale ha preso parte anche la misericordia con il suo direttore sanitario Marco Ferri. E adesso una storia a quattro zampe che arriva dal canile di Arezzo dove sono ospitati otto cagnolini che sono stati recentemente salvati. Sono stati trovati e abbandonati nei pressi di Molinbianco ed adesso questi otto dolcissimi cuccioli cercano una famiglia che possa prendersi cura di loro. La segnalazione è arrivata agli operatori dell'EMPA che sono subito accorsi sul posto hanno così trovato e salvato i cuccioli. Hanno chiamato i miei colleghi a Molinbianco che c'era questa cucciolata che girellavano nel solito posto che ha chiamato e appurato che lì non c'era nessuno non c'era la mamma e niente, siamo intervenuti abbiamo fatto un giro ma nessuno purtroppo l'ha reclamato è sembrato appunto fatto apposta in un luogo discretamente sicuro. I cagnolini che hanno circa due mesi sono stati portati in canile dove sono stati visitati e adesso sono pronti per essere adottati. Sono meticci segugi vengono a una taglia media forse media abbondante sono cani generalmente molto affettosi con le persone che non hanno grossi problemi però che hanno bisogno di tanto movimento e di dedicargli il tempo giusto non solo un giardino perché sono cani da seguita quindi hanno bisogno proprio di esplorare di fare lunghe passeggiate. Non solo cagnolini al canile comunale sono arrivati anche dei cuccioli di gatto in cerca di famiglia. Sono stati trovati ad agazzi in un campo non si sa bene in realtà le parentele perché pensavamo fossero una mamma con quattro gattini già grandini in realtà no e sono due fratellini neri di circa tre mesi e mezzo più maschietti più c'è un altro maschio rosso di quattro mesi e due femmine di sette otto mesi una bianca e nera un'altra tigrata e niente cerchiamo adozione per loro ora ovviamente tutti cercano il gattino piccolo abbiamo gattini piccoli ma sono ancora troppo piccoli sono con le mamme che le stanno allattando e quindi sarebbe bello trovare una casa anche a loro più grandicelli per non farli crescere qui. Un confronto tra intelligenza umana ed artificiale si svilupperà il primo e il due giugno nel castello dei Conti Guidi di Poppi il festival delle neuroscienze organizzato dalla fondazione Gianfranco Salvini e dalla CRT con il patrocinio della regione toscana l'iniziativa presentata stamattina a Firenze si tratta di una o due giorni che vedrà il confronto tra discipline diverse come le neuroscienze la fisica la tecnologia e la filosofia in città invece Giulio Lucatelli imprenditore e scrittore presenta il suo ultimo romanzo La felicità in un attimo protagonista del libro Giorgio Bassi una professore del liceo classico a Firenze che trova una bambina abbandonata su una panchina da qui inizia il suo percorso per ottenerne l'affido nella ricerca della felicità la presentazione giovedì 16 maggio alla Feltrinelli Point a dialogare con l'autore sarà David Faltori e sempre in città una mostra dedicata in questo caso all'alchimia rappresenta la cosa più importante da conoscere per l'alchimista cioè la materia dell'opera qui abbiamo il dragone che vedete si congiunge con la coda e ricorda l'Uroboros all'interno del quale noi abbiamo questa materia dell'opera cioè lo zolfo il mercurio e il sale Alchimia la lingua del segreto è una mostra unica nel suo genere che ripropone agli occhi contemporanei una sintesi dell'antico mondo spesso enigmatico e complesso ma sicuramente affascinante dell'alchimia protagoniste dell'esposizione una trentina di immagini dei maestri miniatori del 400 e del 500 e rare raffigurazioni a stampa della prima età moderna conservati in alcune delle più prestigiose biblioteche europee e di cui ne viene proposta un'accurata riproduzione su maxiformato simboli molto particolari perché l'alchimia come vedete ben dietro di me ha dei simboli a volte astrusi ma se ci fermiamo un attimo se facciamo un po' di ricerche questi simboli ci dicono tantissimo non solo sulla natura e il rapporto col divino ma ci dicono proprio qualcosa a noi al nostro intimo quindi è una ricerca solo come delle briciole che ci sono state lasciate e che il curioso deve seguire e rapprendere ma che non vengono disvelate bisogna metterci un po' di impegno la mostra è allestita nella sede dell'associazione archeosofica in via Alessandro Dalborro e resterà visitabile fino al prossimo 31 maggio ci saranno anche due incontri molto importanti due sabato successivi quindi sabato 18 maggio alle ore 17 impariamo a leggere un'immagine alchemica e il sabato successivo il 25 di maggio sempre alle 17 alchimia pratica la distillazione quindi parleremo e faremo anche vedere dal vivo con un alambicco come funziona il meccanismo della distillazione ultimi giorni dalla chiusura della prevendita e ultimi biglietti per il concerto della Cortona Comics il 30 maggio Alfa, Chilelauro e Clara saliranno sul palco dello stadio Santi Tiezzi per la seconda edizione dell'appuntamento con la musica dal vivo abbinato al festival del fumetto sia le prevendite online che la biglietteria di Cortona Sviluppo stanno continuando infatti a staccare ticket per assistere alla serata come nell'edizione 2023 anche quest'anno prima e dopo la musica dal vivo il pubblico potrà ballare grazie alla musica dei DJ dell'associazione Cauda e adesso ci spostiamo in Chesentino sono dieci gli strumenti ginnici a disposizione di tutta la comunità di turisti che compongono l'area verde nella zona artigianale di soci strumenti che si sono aggiunti nel tempo e che provengono da donazioni da parte di imprenditori locali ma anche di casse comunali e da singoli cittadini lo scorso fine settimana è stata inaugurata l'area ormai completa ed è stata dedicata a Gabriele Lusini perché come hanno detto le famiglie del comitato ogni volta che i giovani e le persone del territorio verranno qui per allenarsi porteranno il loro saluto e il loro pensiero d'amore anche a Gabriele ed ancora sport la casentinese Laura Benante sulla tatami per la Youth League la Coppa del Mondo Giovanile di Karate classe 2007 l'atleta dell'Accademia Karate Casentino è pronta a vivere una trasferta fino alla Spagna dove combatterà in una prestigiosa manifestazione che tra giovedì 16 e domenica 19 maggio vedrà sfidarsi i migliori ragazzi e le migliori ragazze di 64 paesi di tutti i continenti l'ottimo momento attraversato dalla società di Rassina ha testimoniato anche dei risultati conseguiti alle fasi regionali per l'accesso ai campionati italiani della categoria esordienti con tre medaglie conquistate da Laura Piantini Pietro Falsetti e Filippo Organelli questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti